Musica Si vota sabato e domenica in Abruzzo per le europee e in 98 comuni della regione che rinnovano i sindaci e i consigli comunali. In particolare i seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 di sabato e domenica dalle 7 del mattino fino alle 23. Essendoci le elezioni europee, i seggi saranno aperti anche nei comuni dove non si vota per le amministrative. Le sezioni complessive sono invece 1633. Per quel che riguarda le elezioni amministrative la scheda sarà di colore azzurro e il comune più grande tra quelli al di sopra dei 15.000 abitanti che prevedono il possibile ricorso al ballottaggio è Pescara insieme con Montesilvano e Giulianova. Per le elezioni a Pescara si contendono la vittoria a quattro candidati oltre al sindaco uscente Carlo Masci, espressione del centrodestra, Carlo Costantini, espressione del centrosinistra e dei 5 Stelle, poi Domenico Pettinari per la coalizione civica e Gianluca Fusilli, Stati Uniti d'Europa. Anche a Montesilvano si ricandida il sindaco del centrodestra Ottavio Di Martinis, sfidato dal candidato del centrosinistra Fabrizio D'Addazio con due soli contendenti. A Giulianova invece i candidati sono quattro, oltre al sindaco uscente Ivan Costantini per il centrodestra, Alberta Ortolani per il centrosinistra e i 5 Stelle, poi Romolo Lanciotti e Daniele Di Massimo Antonio. La ripartizione in provincia della tornata elettorale, infine Chieti, è quella con il maggior numero di comuni al voto, ben 50, nessuno dei quali però sopra i 15.020 diritto al voto, seguita da Teramo con 23 comuni, Pescara 17 comuni e l'Aquila 8, anche in questa provincia con nessun centro che andrà al ballottaggio in quanto tutti sotto i 15.000 abitanti.